In arrivo in La Ponte del primo maggio scopriamo insieme il programma dei pesaresi. Io con la bimba a casa. Non so ancora, ho due inviti ma non sono decisa per andare in un ristorante o in una casa, non lo so. Non lo sappiamo. Probabilmente in famiglia una grigliata. Dite niente? No, rimaniamo in zona. Lavoro? Sì. Sono a lavorare. Ah, guardi, dipende dal tempo. Oltre i miei piccoli, per cui se il tempo è buono, sicuramente è mare. Noi siamo gente da mare. Qui a Pesaco? Sì, qui a Pesaco. Ci sta andare tipo in un campeggio, queste cose, quindi sarebbe figo, però non lo sappiamo ancora. Lavoro domenica notte, quindi probabilmente dormirò. No, penso che faremmo una grigliata con gli amici, magari nei monti qua verso il furlo, la gola del furlo. Lo passerò in campagna con i miei amici, con tanta buona musica e una bella grigliata, insomma. Ah, stiamo a letto tutto il giorno. Abbiamo un locale, quindi lavoriamo. Sospiro nel bel tempo e quindi semmai un giro qui intorno nell'entroterra marchigiano. In realtà niente, perché penso di studiare, visto che ho la tesi. Penso di essere a Milano, non sarò qua, perché non vivo più a Pesaro. Quindi in realtà sarò fuori, non abbiamo tanti programmi. Lei? Anche io ancora zero programmi, penso che organizzeremo all'ultimo. Farò una grigliata con gli amici e mi divertirò un po' come fanno tutti. Dove? A Pesaro, andiamo a casa del nostro amico che è alla casa. Ci divertiamo birretta, carne, tutto quanto. A Pesaro, andiamo a casa del nostro amico.